Ehi, ehi, eccomi qua, eccomi qua, partiamo un pochino prima stamane Senti che bel naso chiuso Ah giusto no, aspetta Bello questo effettino eh Ciao, 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 ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti Buongiorno Buongiorno Salve a tutti Come andiamo? Parto un po' prima così, nel caso debba chiudere un po' prima Siamo, eh? Cazzo non ho fatto la instastories Devo fare una storia su Instagram Adesso la faccio Davanti a voi, così Non so cosa dire Ah, vuoi vedere il gioco che possiedo solo io in tutta Twitch? E viene in live L'hanno tolto da Steam Ebbene sci Ebbene sci Hanno tolto il nostro Farmers Dynasty da Steam Sono l'unica persona ad averlo A parte Esprit, ma Esprit non conta perché non lo può fare in live Ce l'ho solo io L'unico modo per vederlo È guardare me E io mi sto mettendo delle pantofole Non è che ti segnalano la live Non vedo perché dovrebbero Scusami, io il gioco l'ho pagato Cioè Io il gioco l'ho pagato E non poco Non vedo perché dovrei Smettere di streamarlo io Come mai? Dicono che abbiano rubato Però loro dicono No, non è vero, non è vero Lo puoi vedere anche adesso Dark Eagle Tra l'altro sto per bere un caffè dopo essermi lavato i denti Non so questa scelta Quanto possa essere stata intelligente Ma Ops Spare in bike Sono due Olè Grazie mille Non si sa cosa hanno rubato Non si sa Quindi Boh, lo scopriremo solo giocando Aspetta che devo qua sistemare Ecco appunto Vedi che sono Dalla parte sbagliata Senti questo naso da leone Ho freddissimo oggi Sto diventando sempre più anziano Tra l'altro oggi ci dovrebbe essere anche un update Fammi vedere No Player non è subnautica hanno aggiornato Peccato Vabbè, uscirà un update nel corso della giornata Ho rubato il meno ad un altro gioco Nicanor Grazie mille Tra l'altro con Aspet abbiamo scoperto una cosa Che non solo ci farà rompere il gioco Ma ci farà guadagnare un sacco di tempo e denaro E adesso vi farò vedere un trucco di magia Grazie a José Ti ci vuole bene gattone Grazie mille Ma magari qualche modello Finito il caricamento vedrete Vedrete Messaggio su Facebook mi hai scritto Scrivimi una mail Non scrivetemi su Facebook ragazzi Mario Mestolo Buongiorno gatto Mi aggrego la mandria Per via del farming Che simpatia Di universitari Che chiedono la No Immagino una benedizione Mario Mestolo Tanti auguri Tanti auguri Guardate ragazzi Allora io adesso salgo Sul pick up Mi avvicino al bus stop Premo invio Qui mi pare ci fossero Delle quest Eh Magia del mago Marco Eh andiamo qui Vabbè È un grandissimo autobus Uh buongiorno rocket Guardate che ti è giù questo Buongiorno gatto Adesso anche io Mi sono appena comprato Farmer Sedai in astituto Grazie a lei Come? Come è possibile? L'hanno tolto da Steam? L'hanno rimesso? Oppure hai comprato me? Come funziona? Ho il gioco in esclusiva Sì Per tanto si glitchano Delle cose Ok Ellison Buongiorno Ellison Noi ci proviamo sempre Va bene Dai che cosa ha bisogno Signorina Per 1500 Lo faccio E devo riparare Degli edifici Ok Però Però Ci eravamo ripromessi Oggi Oggi Ci eravamo ripromessi Di sistemare casa Soldi ne ho Soldi ne ho Quindi sapete che c'è Enter Esatto Lasciamo qui il furgone Che così dopo Possiamo lavorare Usiamo la magia del teletrasporto Per fare questo lavoro qua E oggi ci dedicheremo Oggi ci dedicheremo solo Ed esclusivamente La costruzione Della casa Perché è questo Quello che fa il vero contadino Si sistema la casa Per poter invitare poi Le belle ragazze E ficcarsele Grazie a Rock Vistor M'shield C'è un cancello Una volta Eccolo qui Ma su Real Power Non conta un cazzo Su Real Power Non c'è su Twitch Chi se ne frega Su Real Power Che poi è piccolo Su Real Power C'ha la metà dei miei anni Vuoi mettere? Prima mondiale del gioco Allora Tavole di legno No Ciottoli Si Ciottoli Voglio Cosa per il legno No Metallo Giacuelo Mattoni Su Real Non ha tutta la mia cultura Agricola Un saluto Su Real Che non ha la mia cultura Compriamo i ciottoli Si Senti Sif Che fa la bordello E compriamo dei mattoni Anche questo Poi Faremo Calcoliamo i ciottoli Così in mano Li devo tenere Ma ciò Ah ma i ciottoli Sono il tetto No più che altro Ho comprato tutto Perché costa Sono 10 l'uno Questa sera Se andiamo a Torino Si Il mattone È sempre un ottimo investimento Lo sappiamo Assolutamente Ma quindi Questi ciottoli Di cui si parla tanto Sono per il tetto Ah Vedi Non so se preferire Questi O quelli Ma mi sa Che preferisco Gli altri Così O Sempre così No Così è più rustico Quindi non saprei Tutta una scelta di design Mica design Che non saprei Cosa Cosa scegliere Effettivamente Questo qui Era quello originale No non credo Siano falsi Per sicchiotto Sono falsi Quelli lì Che abbiamo già su Magari i soldi Sono arrivati A dei produttori Per risabbiare Il loro furto No no Quelli rossi Sulle cose piccole Dici Gli altri Effettivamente Erano in ceramica No 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 Preferisco Gli altri Un misto Dite Eh ma mi fa Un po' Cagare Vabbè dai Lasciamo Magari queste due cose Piccoline Così Si può fare Il tetto qua Del pollaio Si Faccio Il tetto del pollaio Il ciotolato Ok Che viene una cosa Un po' più Rustichina Ecco Sono ficcanti Ma mi sanno Un po' di tristezza Preferirei magari Qualcosa di un po' più Acceso Come quell'arancione Lì Ecco Beh oddio Spero che non siano Di plastica Questi qui Anche perché C'è scritto Ciottoli In teoria Dovrebbero essere Coppi veri Questi Per quello Li preferivo Però Bene ma va bene così Lasciamo queste cose Piccole Con Con il ciotolato Qua E quelle grandi Invece ci mettiamo Il coso Che io non mi ricordo più Già come si chiama Uovi uovi Raccogliere le uova È sempre importante Anche perché Sennò Marciscono E voi non volete Che i vostri polli Muoiano No Eh Tintegole In ceramica E vai Torniamo indietro Eh Eh Ok La marca dei miei attrezzi Eee I miei attrezzi Spaccano Abbiamo ancora poco spazio Tra l'altro Per gli Per gli oggetti Qui Purtroppo E questo è un problema Perché ho sprecato Degli slot Qua E non li posso togliere Queste cose qui Se non con un pick up Che costa un sacco di soldi Quindi Boh Chi avrà fatto caso A farmi Sdarnati Non lo sappiamo Si sospettava Farmi in simulator Ma hanno smentito Le dubbi Avrei fatto Tutto Un amianto Come una volta Giustamente Sentiamo un po' Mio dio Caffè dentifricio Non fa per me Mamma mia No Oh Cristo E' terribile No no Ma il caffè è buono È che L'abbinamento Non è il massimo E come salgo Lì scusa Aspetta Abbiamo sbagliato Ok E vaffanculo Dio mio Sbratta In live Epico Addirittura Sbratta Mi tocca leggere Oh Guarda qui La ceramicina Effettivamente Questi sembrano Più 3D Degli altri Dovevo inventare Il dentifricio Al caffè Così uno Lavandosi i denti Risparmia anche Tempo Sono perso La lore Della live Quale lore? Non c'era Della lore Va bene La mattina Ti alzi Ti lavi i denti Se già è bello sveglio Si E con i denti puliti E non fai l'errore Come me Che io Non avevo tempo Di lavarmi lì dopo Cioè Non è un errore In realtà Io non ho tempo Di lavarmi lì dopo Quindi me li sono lavati Prima Solo che poi Dovevo fare colazione Quindi E quindi Ce l'ho nel culo Ah ecco Per un attimo Pensavo che Questo coso qui Mi va a essere scoperto Bini Va che bello Eh Rimoderni Rimodernizzeremo Tutta a cassa Prima Fammi la scala Per salire Che panno Ecco qui Guarda qui che si Io volevo dei mattoni Come questi Ma belli Però i denti Saranno marroni No perché È il sapore Di caffè Contenendo caffè Però anche Contenendo la Sostanza Dentifricia Olè Guarda che bello È già tutta un'altra cosa Ma infatti Ma infatti Adesso la proprietà Vale miliardi Guarda qui Eh Lascia fare Guarda qua che bellezza Non so di che parli Jackson Disastro Grazie mille Ho capito Ho capito Il dentifricio La cocaina Così abbiamo Il colore giusto E si parte Con il brio Ma quella Verrebbe costare Un sacco No E in teoria No Non ci sono Dei coppi Come questi Che sto togliendo Quindi non lo so Olè Olè E adesso Facciamo Anche L'ultimo Edificio E poi si passa Ai mattoni Che qui abbiamo bisogno Di mattoni Come potete vedere Qui Ma il fatto è che non ho capito Perché è mezzo mattoni Mezzo legno Che fa anche un po' schifo Che devo fare Non si può Ok Ti finisco il gusto Trip Eh vabbè Ma sbaglio Sono leggermente Diversi Adesso No non è vero Sono scemo Si nutra C'ho fame Non ho visto Mangia del pomodoro Ma si fame Non ho niente di fame Dai Questo è il posto Il tasto destro Con l'imparcatore in mano Ah per vedere Dove le metterle Ah vabbè Non c'era bisogno Cioè Lo intuisci da solo Dove le vai a mettere Non c'è bisogno Di disturbare I miei superpoteri Fastidio la fessura Eh Porca troia Anormato questo Dagli altri giochi Ups Mi si è spento Il 9 force Eh cos'è sta storia Che gioco Non è più disponibile Su steam Non è più disponibile Su steam Vabbè Mangio Pomodori Ma anche un po' Di uovo Ogni tanto A proposito Dovremmo guardare La serra Com'è Com'è messa Perché forse C'è da No mi pare di no A occhio Non mi sembra Non ti dici da solo Perché ormai È acquisito Anche tu Parti dalla vista Da ingegnere Hai visto Ho occhio Eh Una bella domanda Come aggiustare la cucina Non credo Si possa fare Quindi mi sa Che lo prenderemo Bellamente nel culo E niente Finisce così La nostra triste storia Gli aggiornamenti Dovrebbero arrivare Anche se il gioco Non è su steam Almeno così Hanno scritto Nella pagina Della community Che è ancora disponibile Loro hanno detto Il gioco per ora Non è in vendita Però verrà comunque Aggiornato E quindi Meglio no? Eh mi sembra La moglie Che mi pulisca a casa Lo so Però trovarla Non so come si fa Oh Oh Guarda che bello Torniamo le impalcature Non è lì L'ho lasciata Perché l'ho lasciata Sta impalcatura qua Perché sto stronzo Non mi serve Ok Bene Recuperiamo del mattone Basta andare sul sito Di incontri Ed è fatta Ma sono un contadino? Posso riparare Questo Cosa qui? No Non lo vendono Non lo vendono Nel negozio Di materiali Il cane lo prendiamo Anche il cane ci può prendere Dov'è? Mattone Mattone Grazie a Decapa Aita Per i due mesi Che ho scelto di condividere con me Io Ho sbagliato Ecco qua Per riparare Grazie a te Grazie a te Grazie a te Mi piace che il rumore Non c'entri in niente Con il lavoro Di cazzola Che stiamo facendo Leowit Buongiorno Signor gatto Buongiorno a lei Buon bronzio Non so ragazzi Che tipo di aggiunte Faranno al gioco Non dovete chiederlo a me Spero che lo aggiornino Sempre Come stanno facendo Perché A me non dispiace per nulla Però Eh guarda Cazzo che bello Tutta un'altra storia Lama Doge Grazie mille Benvenius Materiali non finiscono No no Tu paghi dieci E puoi Andarne a prendere All'infinito Il problema qual è? Il problema è che Finiscono gli slot Disponibili E a me Mi pare ne manchino Giusto un paio Quindi non so Non so Che fine faremo Ok Aspetta che No Ah che bellezza Eeeh Bellissimo Eh viene proprio bello Guarda No che peccato C'erano due bellissimi archi Qui li ha tolti Oh che dispiacere Vabbè A me non dispiacevano Quegli archi Sì ma cambia proprio tutto Vedi che qui sotto È anche più rurale Il coso Qui dopo Cementizia tutto Peccato Peccato Preferivo il rurale Ma ha fatto meglio Non può liberare Gli slot No Finita È restaurato troppo È lì Oh ciò mi sono perso Degli angolini Oh cazzo Sì Vedi Sono belli I mattoni Messi così Ah no Li hai rimessi uguale Oh va bene Almeno questo qui A noi Del lato storico Non ci interessa Mattoni e cemento Va bene Siamo degli uomini Rudi Dai Va bene Vediamo solo Al lato pratico Qui è finita Con la maniera Della porta Che l'abbiamo aggiustata A A Martellate Pare che abbiano Copiato un gioco Chiamato Farm Expert 2017 2016 Vendendo le immagini Sono veramente simili Ah Cazzo Però questo qui È molto più famoso A quanto pare Che è che Oh merda Ok Gli archi sono antiquati Qui bisogna pensare A modernizzare Per fare i big money Madonna Avete proprio Fiuto per gli affari Mi piace comunque Quelli ci abbia in mano Un mattone E spalmi a caso Una cazzola Indicando con un mattone Con l'altra mano E No dai Ho lasciato questa porta In metallo Devo rifarla di legno Che schifo È l'unica porta Di tutto il gioco Vabbè Dopo Mi ricorderò di farlo Possiamo live Su Farm Expert Ma dovrei ricominciare Da zero Non c'ho voglia Palle Eh Ma scusa Il legno in alto L'ho rifatto Che mi sembra Veramente una merda No mi sa Che non l'ho rifatto Il legno in alto Guarda le mucche Come sono contente Le mungo Non vedo come Farmi simboletto Posso essere molto diverso Dall'altro Eh vabbè Ma questo qui Puoi Sposarti Ma se lo può fare Anche l'altro Diventa un po' strano Posso ristaurare Le mucche No Anche perché Sono sempre di colori Differente Anche oggi Io mungo le mucche Con la cazzuola Buene Cos'altro c'è qua Da fare Di cosa Qua Casa del cane Non credo Oh qua 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 Vai Tra un attimo ho visto un buco Ho detto E' finita Mi lasciano col culo per terra Invece Che senso di soddisfazione Grazie ad Andrew Grazie ad Andrew O d'Andrew Il muro all'interno Della muccheria Tecnicamente è lo stesso Del foro Scusami Vado a controllare Ma Non mi sento così scemo E spero che non siano così scemi Neanche gli sviluppatori Cioè Eh vedi Ah questo intendevi Ok Thanks Anche questo Ah vedi Ce ne erano di più Bastardi Grazie mille per il raguaglio Ok perfetto Sono vero Per le palle a rare E no Tutti Non credo che nessuno Lo faccia divertendosi Meno che Non lo faccia magari Con degli obiettivi Tipo Adesso haro questo E poi mi mangio uno snack Quali nuove regole di youtube Ah si mi ricordo Mind crash Così giusto per farglielo sapere Quattro mesi Grazie mille Tra l'altro L'ultimo mix Non è monetizzato Come sempre È stato caricato Monetizzazione si Neanche Che 24 ore dopo Era già non monetizzato Di nuovo Tutto giallo Quindi fanculo Youtube Di merda Ah si mi ricordo Mad mark Buongiorno gattause Sono tre Che non sono minori di tre Ma sono sempre minori di tre Ci sta Ci sta Vado a ricontrollare Se magari me l'hanno Revisionato No 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 Non ha dato la maggior parte Degli inserzionisti Revisione richiesta Eeeh Eeeh Però Anche vaffanculo Due giorni che è così Perché sei scomodo Per qualcuno Dei poteri forti Mamma mia Bene Direi che con il mattone Qui Abbiamo dato Sì Qui forse Uh Bellino Oh Sì 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 Mi garba Ma scusa Ma scusa un attimo Ma allora posso rifare anche qui Non posso rifare questi mattoni Che stronzata Ve l'ho promesso I muri interni Della casa Eeeh Allora Con quelli Dovremmo avere una soluzione Per quelli Adesso facciamo Adesso vedremo Tra l'altro Famoso Che ha fatto una live Su youtube Dicendo Ehi Sono in live su mixer Ed è morta lì Lui ha spammato Su youtube Il suo canale di mixer Youtube cosa ha fatto Gli ha dato uno strike Madonna Perché Perché giustamente Come mi hanno detto tutti Youtube vuole farti rimanere Su youtube Se tu mandi via la gente Youtube ci perde Vero Però è anche vero Che se io Porta Cioè Tutta la gente che è arrivata su youtube È arrivata per merito mio Quindi non è che sto facendo Il furbo A casa di youtube Sono a casa di youtube Però comunque ho fatto Cioè L'ho costruita io Sta casa Uno strike addirittura Gabel Si Per questo dico Che mi sembra un po' eccessivo Fosse stato Gli hanno rimosso il video Di vabbè Vaffanculo Chi se ne frega Gli hanno dato proprio Uno strike Secondo me è esagerato Non è vero che mixer è di google Mixer è di microsoft Quindi Cioè Loro dicono Tu sei a casa nostra E non puoi Aspetta che Vabbè Tu non puoi spammare Altri siti All'interno di casa nostra Capito io Però Cioè Se io ho Come lui aveva Milioni di iscritti Cazzo Me li sono guadagnati Da solo Non è che mi hai fatto Un favore tu Raccogliamo questa ultima mano Che non so che cazzo sia Penso sia per i muri Ah si Mi ricordo Dottor Brick Siamo a 5 Passi in fretta il tempo Eh si Eh si La casa di youtube Lei il creativo La restaura No vabbè ma Avesse deciso Di chiudere il suo canale youtube E mettersi a fare Sono mixer Magari capisco Anche l'astio Però Lui voleva Fare le tre belle cose assieme Ma qua No Questo è per i muri interni No Oh Eh Scusami E dove lo dovrei usare Sto coso Forse devo scartare Per forza Prima Cazzo Qua ci andavano altri mattoni Vedi che so scemo No Vabbè Torniamo indietro I muri interni Sono terribili Ma infatti Volevo rifarli Proprio per quello Prima dell'ultima mano Devi passare Lo scartavetrante Eh vabbè Lo compreremo Allora Chi è? Fank Grazie mille Espit Aveva detto Che aveva citato Aveva messo Le cose Prima Di quelle prima Vabbè Non importa Dove è lo scartavetro Tiè Cos'è questo? Lucido per in legno Ok Tavola di legno No vorrei una pavimentazione Eccola qua No mattoni Non la vedo Scusami Tetto di bitume Mattentoro Che fa schifo Mattoni forati Sì Ho solamente un altro slot Devo scegliere con cura Ciottoli Eh no I ciotoli sono quelli brutti Disumano Grazie mille Siete proprio simpatici Ah Un tonaco cementizio Boh Prima di comprarlo Vediamo Intanto Riprendiamo i mattoni Un attimo Che Voglio rifarmi anche Cosa Che Ringfanto 13 mesi Buongiorno Come sta Volevo augurarle Buon Natale Un buon anno nuovo Leggermente in ritardo Grazie mille Accetto Accetto Magari Li accetto anche per l'anno prossimo Così stai già tranquillo Per tutto il 2018 Non devi stare lì a pensare Devo ricordarmi di fargli gli auguri Posso rifare i mattoni A casa del cane Peccato Peccato Avevo ragione Un'altra volta Sulla ghettizzazione Di youtube Cosa intendi Effettivamente c'ho fame Aspetta che vado sul tetto A controllare Di aver fatto tutto Il comignolo E poi dopo Tolgo anche questa Imparcatura Che è fatto Abbastanza schifo E infatti non l'aveva fatto tutto Vedi Che fastidio Ok Ok Vai Cado Grazie a Dorian Feliz Il cane non merita Il tetto in mattoni Grazie a chi è mister Brevia storia triste Twitch non mi ha fatto festeggiare L'anno di sub No Ed è anche il mese di mio compleanno No Buon 2018 Grazie YouTube video editing Mixer e live stream Eeeh Non è vero Che sono due cose Completamente diverse Duke Perché adesso Tu puoi Prima di scartavetrare Fammi Ecco qui Perché tu adesso Su youtube Puoi fare le live Perché youtube Ha visto twitch Ha detto Cazzo Io sto perdendo Un sacco di milioni Di euro Di dollari Immagino Abbiamo pensato E allora ha detto Sai che c'è Fanculo Anche noi lo facciamo E quindi adesso Qualunque cosa tu faccia La puoi fare Tranquillamente su youtube E non hanno neanche torto Ad obbligarti a fare Scusami Scusami Ah ok Ok Allora questo qua Da quelli lì in alto Si Sono veramente brutti Comunque c'è gente Che su youtube Dice Eh fai le live Su youtube Ma io non voglio Fare le live su youtube Mi fa cagare Fare le live su youtube Non vedo perché Dovrei essere obbligato A fare Entrambe le cose lì Perché era ancora Più confusione Sul mio canale Porca vacca Già la gente Non si guarda i video Figurati se poi Devo aggiungere Anche le live Quanto casino c'è Per quello della casa Serve intorno a cocementizia Ti pareva Perché sono già rifatti Dite Ah giusto E da poco su youtube Puoi fare anche La sponsorizzazione Si che era subscribe Praticamente Eh Guarda te adesso Dopo 4 anni E il pubblico Fidelizzato Su twitch E i sub Che ho su twitch E dico Vabbè ragazzi Da oggi fanculo tutto Torniamo su youtube Ma vi pare che dovrei Fare una roba del genere Porca vacca Perdo Metà del pubblico Sicuro Primo Secondo Per andare su una piattaforma Che per ora Per le live Fa veramente cagare Mixer mi aveva intrigato Sapete Mixer mi aveva intrigato Perché ha delle funzioni Che tutto sommato Sono Sono carine Puoi vedere più live Contemporaneamente Senza usare Better twitch Che in Italia Non sa neanche la gente Che esiste Non better twitch Scusate Multi twitch La gente non sa che esiste Multi twitch Quindi No ma su youtube Avrei il doppio delle persone Chiaramente Che mi guardano le live Però non avrei lo stesso Non avrei lo stesso numero Di subscriber Perché comunque La gente che mi vuole bene È qui su twitch Eh Eh E poi sono sicuro Che un sacco di gente Di merda su youtube Non vede l'ora Di rompere i coglioni E basta Quindi noi stiamo qui Per i fatti nostri Che stiamo benissimo Cioè bisogna andare su youtube No Quindi Quindi non mi interessa Andare su youtube A farle live No lo so che molti twitch Magari non è per tutti Però Mixer aveva quello Aveva il supporto del 4k Aveva dei codec Tutti suoi E per un attimo Mixer mi aveva interessato Un attimo Come Perché Io sono sempre La ricerca di un miglioramento Cioè Io non cambio piattaforma Perché paga di più A meno che non paghi Un sacco di più Tipo Mi dà milioni di euro Al mese Allora vi dico Sì Ci spostiamo Non serve neanche Farvi più la sub Sono ricco Però Mi interessa Sempre avere un miglioramento Nella qualità Nel Quello che si vede Quello che vi posso dare Dove posso Cerco di migliorare io Nel caso si debba cambiare Si può pensare la cosa Infatti mi era venuta Anche una mezza idea Di cambiare da streamlabs A un'altra cosa Però era veramente Una rottura di palle Infinita E comunque Insomma Ci teniamo streamlabs Che adesso abbiamo Streamlabs OBS Va bene così Non importa Che è tutto più integrato Siamo molto più comodi Però c'era una nuova cosa Di donazioni Che tra l'altro Avevano detto Vi paghiamo di più E credo che paghiano Tipo Tre centesimi di più Vabbè Non importa Cazzo da fuori Devo fare sto mestiere Però avevo la possibilità Di fare un editor Di donazioni Veramente approfondito Quello mi aveva attirato C'erano delle donazioni Che potevi proprio fare Con un mini editor Interno al sito E non semplicemente La gif Con il suono Potevi fare Molto di più Però Cazzo se devo diventare Scemo A parte che dovrei Rifare tutte Le donazioni Da zero Cazzo Danny Campana Grazie mille Sono chiusissimo Night Più parlo Più peggioro la situazione Dovrei stare zitto Faccio il pro player No No Che palle Vediamo se riesco a fare il ninja Sì Ho sbagliato Ah no lì Oh cazzo Come si sale Permesso Però che fastidio lì Che è mezzo mattoni E mezzo coso Eh Cazzo Qui Oh Va che bello Per ora Non è disponibile Da nessuna parte Farmers Dynasty Ok Oh Eh Manca questo Credo che ci siamo No Mancava questo Perfetto Che ti frega Tanto la casa va dipinta E vabbè Scusa Poi di altro Con questo Coso qui Non ne vedo Ok Dicono che abbiano copiato un altro gioco Elliot Eh Dove Andare a dormire Vabbè Con occhionino Occhionino Si trova il gioco E vabbè Scarta vetrare Pappaparaba 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 E disponibile Sono in live col gatto E chi si lamenta Il pozzo c'è L'hanno tolto in attesa Della Goti È vero Ora Io spero di andare a dormire Con questo coso qui E svegliarmi Avendolo ancora in mano Ma ne dubito Quindi avrò fatto anche Un viaggio a vuoto Che mi è capitato Oh che culo Ce l'ho ancora Però ho fame Allora mi bevo Un bel bicchierone di latte E' diventato un laboratorio Terribile Ah che fastidio Le Sì Il giardino dei giochi Per bambini È stato sistemato Anche il soffitto Non vedo Non vedo niente Poi ripitturare Boh spero di sì A parte il fatto che Preferisco avere un laboratorio Qui super segreto Piuttosto che La carta da parati Rovinata Che è veramente Terribile Allora posso anche farlo Nell'esterno No Chiaramente no Pavimento no Non so come si sistema Il pavimento Ce n'è da fare Qua Ma lo dovrebbe comprare Di bambini Mi dipingono loro Gianlucas Vai gatto Si compri i fazzoletti Che bababia Eh mi dispiace ragazzi Ma tanto comunque I fazzoletti ce l'ho Vi faccio sentire Che mi libero Questo è il fazzoletto Che ho usato prima E non c'è niente C'è una caccolina Piccolina Ma non Come sentite La tappazza È rimasta Boss finale È restaurare la cucina Cos'è il decespugliatore? E serve a tagliare l'erba Grazie a Dano Non so da fare qui? No Qui non No Scendo Eh no Scendo Ho detto che scendo Scendo Non scendo Ah che cazzo Eh vitamina C Non è la vitamina C Purtroppo Pare sia il naso Ragazzi Pare sia il nose E devo farmi Una visitona Ma ragazzi Non è una cosa Ce l'ho sempre il naso tappato Semplicemente dei giorni Ce l'ho di più o di meno Cazzo Ma che fosse la vostra Prima live Le armadi non sono bellissimi Ma Che devo fare? Forse con il lucido per legno È caduta una roba Io ho visto Che schifo Ok No forse ho dei polipi Non so Fì troppo Che le viene Sinusite No diciamo Che tutto l'arredo Fa abbastanza cagare Ok Mi dimentico sempre Che c'è un soffitto Nel gioco Olè Comunque vorrei far notare Che sono 1200 persone Che stiamo Che stanno Voi guardando O io Facendo La ristrutturazione Di una casa finta Adoro questa cosa Mi piace un sacco Sono contento Che mi piaccia Mi sto proprio divertendo Anche perché si chiacchiera Si fa È bello Perché poi dopo E fare Extreme makeover La casa passa Da così A così Soltanto ripensi Sulla scala Ah per te che Anche questo si fa Ah non lo sapevo Ok grazie Non pensavo Che questa station Qui si dovesse rifare Quindi anche questo Vediamo Qualità No Quello no Da una gran soddisfazione Si È molto bello Per quello Avete le manie Delle ristrutturazioni Ha un futuro Farmer davanti a sé Ma non sto facendo Il farmer Sto ristrutturando Una casa Coerenti con Lavoro in Italia Uno lavora Gli altri guardano Olè Eh Siamo pronti Per chiedere Una setta Mormonica Le Tra l'altro Questa qui Di chi è sta camera Scusami C'è una culla Ma Di già Se il gioco Vuole dirmi qualcosa Aspetta che Avevo il tuo stesso problema E non ho letto Mi ha prescritto L'antibiotico Ero solo E ciò non funzionava E sono andato sotto i feri Per fortuna Dopo qualche mese Mi è passato Perciò legavo Una guarigione Eh ma io è così Da anni Sono veramente anni Che sono così Quindi boh Ci deve dire qualcosa Non ho fatto niente Prendo il multicentrum E' tutto pronto Non sono del mestiere Ma per me Non ci fa così Come? Era la casa del nonno E in quella culla Dormia mio papà Minchia Quanto 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 è vecchia Sono incinto Come? Come siamo arrivati a ciò? Mi tempi non era così facile Fare i lavori Tanto vi faccio notare Che c'ha Da una parte Quello per spalmare Il L'intonaco E dall'altra C'ha una cazzuola Non so se la notate Piccolissima In basso a sinistra Eccola qua Eh hai visto Che ha fatto così E' bravissimo E' bravissimo Questo uomo Ah vedi No non dirmi Bisogna anche Beccare l'angolino Giusto Se no Non me lo attiva Oddio no No dai Già la cucina è terribile Eh 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 sì E dai Che culo E' andata E' andata Mio dio Guarda qua che merda E il tetto è fatto qui Perfetto Soffitto Fammi ricontrollare Tutti i soffitti Qui E' tutto buono Qui dà ancora da fare Qui non c'è un gazz Ok Qui Perfetto Lo torno anche ora Ah no Dobbiamo andare anche di sotto Eh sì Ok qui a posto Qui a posto Intanto ho visto da ingegneri Mica mi avvisa qua Se non ho scartavetrato tutto Perché sono roba in più Quindi c'è ancora più difficoltà Thank you Coleos Buon salve lord gatto Volevo chiederle Se conosceva la musica Popix Soprattutto se le garba No Non conosco niente Grazie Però non Cos'è Popix No J-Pop sono i coreani Popix non so cos'è Non potessi durandone questo gioco Se prima non avevi ristrutturato la cucina Perché il gioco è sessista No non posso Non posso lasciare così La La parte Ma guarda anche dietro l'armadio Devo La cantina Perché se lascio Ho paura che Se non sistemo tutto quanto Non mi aumentano il valore della casa E mi dà un po' fastidio E' una villa gigante E' un bagno minuscolo Cioè c'ho camere Per più persone E abbiamo solo sto bagno qui Che mio dio Se non mi ci farei neanche Una Cos'è sta cosa E' la lavatrice Oh mio dio Abbiamo attrezzi agricoli Per fare qualunque cosa Ma non abbiamo la lavatrice Porca troia Non sbaglio Ho creato del legno Cazzo Ci volevano altri mattoni Qui Ma Affanculo Non lo sapevo Andremo a prenderli La caserma Della guardia di finanza Madonna Quanto specifico Deve essere Ok Ok Non c'era il water Non ci ho fatto caso Ma forse è la lavanderia Ok Ok Allora prendo il mattone Per di dimenticarmene Di nuovo E via Cazzo Ma è cresciuto Un sacco di erba Uno dorme una notte E guarda E guarda il risultato Affanculo Vabbè Questo qui lo faremo Magari con calma Offscreen Però che palle Dai Non può crescere Tutta assieme Questa erba Di merda Ma che merda Il terreno è il WC Ti sembra il concime Per quello Dai Cazzo Volevo fare la casa bella Che fastidio Che fastidio Vabbè O se è cresciuta l'elba Magari sono cresciuti Anche i pomodori Che schifo Vediamo un po' Niente Non è cresciuto Non è cresciuto niente Ancora Capito ragazzi Che palle Cresce un cazzo Ah Un po' strano, no? La sicurezza continua a salvare Ma dopo smette Le palcature le togliamo dopo Che è? Mandujar Grazie mille Mattone, mattone, mattone Che non so E Dr. Six, grazie mille Prima di un gioco con le texole le hanno caricate e poi tolte Dai, guarda, ho tagliato tutta questa arma qui Che palle Fanculo Suonano il campanello, arrivo tra un secondo Proprio oggi Sì, proprio adesso Chi è? Arrivo? Chi è? Sì, io lavavo tra il gioco colore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco qua. Ah, perdonatemi. Eccomi qui. Ah, che fatica le scale. Boom. Momenti di qualità. La mafia russa, madonna. Erano gli sviluppatori del gioco rivale che erano venuti a menarmi. Vai in autobus con il mattone e la cazzone in mano, certo. Perché no? Ora lì che dettaglio però, dai. Bellissimo. Tac, tac, qui. Olè. Bellissimo. Sono proprio bravo con la cazzuola. Sopra l'ingresso della casa? Ah, adesso andiamo. E' un po' scomodo del far avanti dentro del negozio, però sei obbligato a farlo se non ti compri il furgone che costa un bordello. Che coglioni. E' tanto che non sarei niente a far l'occhio. Fare tutto a posto. C'ho il fiatones. Davanti alla casa. Qui? Ah, guarda. Grazie. Sì, ma con chiamattoni piccolissimi, scusami. Vabbè. Vabbè. Curioso. Ok. E' mancato un pezzo? Spero di rifare anche quello. Ultima mano. No, forse serve l'altro. Serve quello lì che abbiamo visto prima, ecco qui. L'intoraco cementizio. E abbiamo finito gli slot. Dai, proviamo a fare l'ultima mano. Provo a vedere intanto l'interno, poi vediamo. Ah no, aspetta. Forse serve l'intoraco e poi dopo l'ultima mano. Dai. Io come vi avevo detto, mi sa che vi abbandono un attimino prima. Però, non so se i termos ci sono o meno. Più che altro devo andare a fare la popò, lo dico. E se la faccio... Se la faccio dopo, me... Mi perdo il treno, quindi devo farla a breve. Quindi non so... Il toraco cementizio, ma... Eeeh, sì. Un bel giallo schifo. Non si poteva scegliere il col... Oddio, anche qua? Eeeh, che ribrezzo. Oddio mio. I termos non hanno iniziato. Eh, cazzo, però. Mi dispiacque. Oddio mio. Vabbè che comunque qui almeno lo stacco... È fastidioso, per carità, però almeno ci sono due cose. Elliot, buon dì, la prego, mi porga la sua mano per l'ultimo esame. Ti voglio bene. Grazie mille e tanti auguri. E dà soddisfazione ai suoi occhi, hai visto? Perché che lavoro... Giallo. Oddio, no! Ah, ma perché posso fare tutto così? Eh, perché a sto punto mi converrebbe... Perché fare i mattoni e il giallo fa schifo. Non posso farlo per dentro. Devo provare una cosa, poi chiudo. C'è l'ultima mano dopo. Proviamo a vedere cosa c'è con l'ultima mano. Vado un attimo a vedere cosa c'è. Faccio un salto, giusto per vedere. Ferica, grazie mille. La mano di vernice dopo. Non c'è la vernice. Ultima mano, vai. L'ho preso? Vai. Dentro serve... Ah, dentro serve solo l'ultima mano. Ah, ok. Lo dissi io di salvare, vabbè, ma al massimo si rifà. Nulla è perduto. Il bus che passa sempre è giusto quando ne hai più bisogno, vedi? L'ultima mano forse è solo per dentro. Sì, sì. E allora niente, poi dopo riproverò a rimettere i mattoni a sto punto. Cosa succede qua? Ma che schifo. Fammi vedere. Ah, diventa semplicemente un po' più bello. Va bene. Salviamo. Salva, salva. E via dal mio prato! Animale di merda. Partita salvata. Perfetto. Vediamo se c'è su carica. 10.52, sono 10.53. Sì, c'è un 58 secondi. Perfetto. Indietro. Esci dal gioco. Sì. Perdonatemi. Chiudo un pelino, pelino prima. I termos non sono partiti, però andate tutti da loro tra poco. Sono sicuro che partiranno a brevissimo. Mi dispiace, ragazzi, però non vi riesco a raidare perché devo andare via. Perdonatemi. Perdonatemi. A stasera. A stasera. Ciao. Ciao. Ciao.